Se hai iscritto, dammi i tuoi dì così ti aggiungo. Pilo, ti dovrebbe aver aggiunto uno del team ai pazzi, capitando il team ai pazzi. Grande salve a noi ragazzi. Come si chiama? Sto cercando di copiarvi le tattiche. Bravo, noi stiamo cazzeggiando ora, quindi benvenuto. Le tattiche sono... Il pazzo 1991. Sì, dicelo. Ok, buono, buono. La nostra tattica già mi sono palla a Tony Station e si vola. Madonna che bello. Siamo un botto. Sì, davvero. Ragazzi, buonasera a tutti. Siamo live su social party. Sì, 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 infatti. Spalmiamo, lo spalmiamo. Comunque, buonasera a tutti ragazzi, benvenuti. Live dal The Real, ragazzi. The Real TV con Birolbello, salve loro, Malachi Ranch. Ragazzi, siamo carichi per il terzo torneo organizzato da The Real, Malachi Ranch e Birolbello, signori. Siamo pronti, siamo carichi. Siamo veramente euforici, oserei dire. Te, Birolbello, come stai? In attesa? Caldo? Io ho il cervello in pappa. Quanto facile è stato organizzare questo torneo? Diccelo. È stata una delle esperienze più brutte della mia vita. Non ci credo. Speriamo che non succeda nulla. Se non succede nulla è stata soddisfacente. Se succede qualcosa sarà l'ultimo torneo che farò. No, ma che deve succedere? Che deve succedere? Spero, speriamo che non succeda nulla. Ecco. Però, siamo tanti, quindi... Quanti siamo in teoria? Qualche problemi? Siamo 126. 126, mamma mia ragazzi. 126 persone. 126 soldati. Vai. Non persone, soldati. Che cucina c'era quel pazzo. Sì? Grande del pazzo. Grande del pazzo. Tutta una cucina carina. Stavamo facendo la conta. Stavamo facendo la conta. Allora... No, Tonno, ma non la facciamo perché guarda non ce la fa. Lascia fare. Eh, ma... Eh, ma ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo? Cosa ce l'abbiamo? Ma se la gente non mi ha accettato, cazzi sua, vuol dire che non vuoi partecipare. Giustamente. No, ma è sempre per contare. Scusami. Eh, sì, ma io c'ho... Allora, devi andare a ricercare tutti i nickname. Eh, ma non ti l'avevo già segnato. Ce l'ho, ce l'ho, nel senso, il roscio... Allora, ti dico, ti dico... No, aspetta, perché nel file che ti ho mandato io, l'ultimo, se no, ti accanto a alcuni team c'è un segno giallo. Questi segni gialli, senti che mi sono organizzati, vuol dire che mi hanno accettato la lucidità. Vedi, i segni gialli, se si vedono in live... Quindi a me mi mancherebbe... Team Bubbles, ma non partecipo. Ce l'ho io, Team Bubbles. Team... Ma l'hai detto che ti sono Team Bubbles? Sì. Ok, 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 scusi, no, scambiamo tutti tutti. Team Ivan, poi ce l'ho. Team Ocropoid... Che non so chi c'è. Ce l'ho io. Ah, aspetta. Ce l'ho io, comunque. Ocropoid ce l'ho, sì, sì, sì. È quello se legge all'incontrario è porco. Eh, lo possiamo dire, possiamo dire. E ti maieie. E ti maieie. Ma ce l'avete aggiunto agli amici? Ehm... Ha aggiunto te, Milo. Ha aggiunto te. Ehm... Aieie, Brazor. Allora, loro sono, loro sono. E ti ha aggiunto steroid, mi sa. Steroid ti ha aggiunto. Steroid, 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 steroid. Aieie, Brazor, 24. Ma come siamo coordinati dai jammi sempre con... Ecco, non mi è. Eccolo, mi è. Eccolo, mi è reale. Ah, mi è. Il mercolice. Eccolo, dobbiamo vedere tutti gli amici. Vorrei presentarvi in esclusiva, che siamo live. Vorrei presentarvi in esclusiva il vincitore del prossimo The Real. Mirko, benvenuto. Come va? No, dello scorso, semmai. Dello scorso, certamente vi hai trovato. Ma io già guardavo in avanti, guardavo. No, no. È una fata. A parte quello, la grande. Ma a parte della favoriti, attenzione. Dimmi qui, dimmi qui. Come la vive con il bel evento. Allora, Tim Barton non c'è. Non c'è, Tim Paz. Ecco, stiamo anche in matura. Esatto. Tim Menci ce l'ho. Tim Terroni non c'è. Tim Buso ce l'ha. Tonno. Tim Zuzio smancettoso. Che bellezza. Tim Tosve. Non è il mio tempo. È il Dv, ce l'ho io. Ce l'ho io. Ce l'ho io. Team A. Team A. Ecco. Team A sono... Non so se... Mi sembra che hanno aggiunto a voi, perché... Allora, Tim A sono... Oddio subito, Bilo, eh. Palp Z. Esatto. The King e T. Queen Mart. Allora c'è questo. Comunque il primo torneo è andato bene dalla seconda lobby, quindi speriamo che... Team Ghost ce l'ho, Team Eye of the Tiger. Ok. Ci sono iii of the Tiger? E sono? E sono? E sono in K93. Che ti ha aggiunto a te, mi sa. NK93, poi share. Non posso fare ricerca da qualche parte, mi ci scorre di tutto. No, purtroppo no. No, non c'è, non è questo. No. È il Dv. È il Dv. È il Dv. No, ma per qua. No. Allora, aspetta, 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 aspetta. Che? Aspetta. Chi è The Wild? No, no, aspetta, 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 aspetta. Aspetta, aspetta. Che è The Wild? Ce l'ho io, forse. Sì? Aspetta. Ah, mi sa che sta guardando la live. Prova a staccare il microfono. Ah, ciao. Ciao ragazzi, stacco il microfono, se no mi faccio confusione. Tranquillo, benvenuto caro. No, Vilo, non c'è nemmeno... Non c'è nemmeno... Piacere? Grande... Ma ma che stile invento, ragazzi. Guardalo lì con quel tremesso lì. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao amore. Puoi dimmi, Vilo? Ma è un tuo team, tipo? Sì, che è un mio team, è un mio team. È un ottimo? Anche un tuo team. Sono anche Dionico e Mazzarini. Ah, buonasera. Buonasera. Iscrivo. Piacere, caro e benvenuto. Grazie ragazzi, che dimmi siete. Quanto siamo? Diventiamo 120, ragazzi. Quanta gente. Quanta roba. Eh sì. Adesso... Ma poi così dal nulla sono... Adesso è il mio comando, Vilo, è il mio comando. Sì. Ok. Scusate, stavo cercando anch'io. No, vi preoccupate. Stiamo a fare un bel epilo. Sì, 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 sarà... No, vabbè... La porta a pazienza per l'inizio. Poi c'ho Team Piak. Piak, dillo per bene. Piak. Mio, Team Piak. Se a me Piak, sì, mi aderiggere. Team Kagne. È mio, è mio. Che non ho nick name di nessuno. Comunque... E c'hanno Shabullon 88. I verdetti del secondo torneo sono stati... Non penso mi abbia aggiunto. Allora l'aggiungo, io aspetto. Antman e Wasp. Vittoria con 42 punti. Quindi ragazzi, premio ufficiale per il primo torneo. E il premio miglior Nick lo vince Sandi Okan. Uno dei nick name più belli della storia di Kod. Quindi Nick più bello lo vince Sandi Okan. Mentre ancora Antman e Wasp... Bella ragazzi, bella che tu hai. Ah, è il giocatore più bellino. Lo ha vinto Alberto, eh? Sicuramente. Sei il giocatore più bellino, Alberto. Lo sai che quello è sempre tu. Comunque, Vilo, ti ha mandato la richiesta, Vilo. Chi è? Questo qua, Shabullon 88. Non ce l'ho io. Ma ha scritto ti ha inviato. Ti ha invitato. Cioè, te l'ha inviata. Ah, io sono a prendere queste. C'ho TTV Black. Ma Viti mi vede tra gli amici? Io non ce l'ho tra gli amici. L'ho mandato ora. No, no. Digni se lui mi vede a me tra gli amici. Grande il social. Grande brutino. Non lo so. Non lo so. Oh il temo. Oh il temo. Non farei casino che stiamo cercando di scelperlacci per bene. Stronto. Mamma mia, sì, subito, subito. Sì, sì, sì. Provedo. Comunque, si ha dato. No, Anto. Dimmi te come fare dopo, eh, perché io non ci capisco una semplice. Di cosa? Come fai ad entrare dopo nella privata. Ah, quando scrivo nel gruppo lobby aperte. Aspetta un paio di minuti. Che sono uscite? Ah, così da nulla. Molto bene. Sì, se... Eh sì, quello sì, Matte. Il save disco, ragazzi, cioè a parte c'è. Adesso ci dovrebbe essere il link nelle informazioni, dice Matte. Che da lì partiranno live. O se potete partecipare a live. Più che io ho il disco, non mi piace. Facciamo una piccola community sul disco. Intanto avviamola, quindi non c'è ancora niente dentro. Andiamo a intasare il disco. Allora, budino, vieni. Allora. Ho detto dentro il party. O adesso no. Attenzione. C'è da pregare, ragazzi, che il mio computer, facci di bravo stasera, la mia linea internet. Che vivo in mezzo alla foresta desertica. E che fa arrivare la connessione, mi parte un signore ogni giorno. Ogni ora. Il ping va, signori. Va, va. Ma è quanto l'economia. Ma è quanto l'economia? Ma è quanto l'economia? Non viè. Ma è quanto l'economia? Ma no via. anche l'obbligazione aperte in 15 minuti e quindi siamo solo a perdere un po' di tempo come un po' la gente dai tanto se vuoi un'arma che si fa ma questo questa è mica la lobby della la partita vero si no in teoria no infatti perché sennò non lascia sicuro no questa caccia di sicuro sono 18 18 richieste per iniziare santo saranno nessuno saremo tutti saremo a scherzo come sei ora unisciti nella scuola 2 e petto pari a pari a spiare minchia a vero sui Ok ragazzi Donatevi per dare un computer decente a The Real E almeno possa fare ben due applicazioni insieme Ah OBS Dovebbe essere qua Un amico Brodino Che fine ha fatto Vediamo se ci fanno entrare E lo aspettiamo ragazzoni Permisate voi a code Allora Ma 60 minuti allora Ma come funziona per entrare Io non ho capito Ti sei fatta la classe Nelle private? Adesso non mi parla Sto stronzo No no Ti sei fatto Sì sì me ne sono già fatte due Ma nelle private dico Non in questo qua Sì 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 Come partita privata Warzone Lì dentro Esatto Sei da play o da pc Sei da play o da pc? Da pc Domande Ti saluta Matte È live Eh quello si è Grande Matte Ma io non voglio giocare Fa strano parlare qua Fa strano parlare qua Senza avere Metal Gear davanti È quello che stavo dicendo Non voglio giocare a Metal Gear domani A fuck Quello con facciamo una special Metal Gear Eh domani inizia il bello Domani inizia il bello Domani fai il bello Mi hanno detto Ieri mi stavo E avevo uno spoiler Un collega Perché mi stavo facendo vedere la live Dove siamo rimasti ieri E non ieri Non è lì Che c'è lui Messo lì Non so che cazzo succederà Perché già lo sapevo quella scena Comunque E mi fa Eh ma lì adesso dovrai Io mi chiedo Mi ho dato un cazzo No No Te lo gioco Una puntata in bocca Meno male Niente spoiler Ma ci credo E che credo Eh ora comincia a diventare interessante Eh ma è veramente difficile Cominciare a diventare Cazzo di gioco Sì 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 Oh ma tra quanto ti comincia? Tra 10-5 minuti Cominciamo a mettere in lobby Ok Ma come funziona Mi inviti te? E come funziona? Sì Quando So se non riesco Se no Se non riesci Noi conosciamo lobby aperta nel gruppo Beusole lo legge Lo dice a voi Lo legge Lo dice a voi Ok ma io poi mi basta Per dire che tu di te Tasto destro Entra nella partita Esatto E scegli il posto Il posto Che ti state assegnato Ok Ok perfetto Perfetto Posto Posto Allora Ho fatto le mie classi Io mi gira un po' le palle Che non c'è la modalità poligono Poligono di tiro Per capirsi Per provarle Però Vabbè Io 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 Matti Io ti presento al mio amico Mr. Brodino Io Mr. Brodino Io Mr. Brodino Ah ok 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 Mi pensavo che erano italiani Quindi non ho capito Ok Questi ragazzi sono i miei colleghi Latviani Ah Co-workers Ok 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 Sono due Amici Sono pronti? Ci saranno più di 120 I'm logging up from the party I'll enter in the game Once it's open Ok ok Bye guys Good luck Have fun Bye bye Ciao Brodino Matti I will write to you I will write to you And invite me Yes I need to make a load up Be ready At 55 guys Lobby's gonna be open Do you know how to enter in a private? Hi Matti Ok Matti non parla Avanti con lo vatti Eh 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 Andiamo a soltare ceci Quello sai Matti Quello sai Amici da per tutti Deerial parla spagnolo Italiano, inglese, letto E' un po' di francese L'italiano lo mastico Ok Forse poi ho meno francese Un po' di ansia c'è Oh Immencio Allora Ho avuto l'uncio Del real Grande ceci Come va Che punto si è Tra poco si apre Ma noi Che numero siamo Di lui Chiari Giambi Ti sento Maglissi Qui facciamo I tre I terzi Ma chi Ti siete in team Gianmi ceci Chi è E' Gesù Ah bello Gianmi ceci Berto Cosa vuol dire La clubhouse Matte Se c'è domande A caso Perché c'è la live Perfetto Io Mi pare Che siamo Il terzo Sì C'è Da fila Lobby Mi sento Tutto Robotico Di chi Ottimo Eh ma da quando è entrato tonno Perché Tutto è un po' Su Ragazzi Apriamo lobby Perfetto Perfetto Ah Bilo Ti consiglio di levarti le cuffie Perché sentirei le voci di tutti E noi non ti sentiremo Buono Buono Magari una remembranza Bella roba Timo 2 Aspetta controllo Aspetta controllo Vai Aperta C'è un setup Per Oh ragazzi Lobby aperta No Buono Buono Un nuovo follow È grande Aspetta Si vai In lobby Te lo dico Ma Rihanna Mi esce a scrivere Ok Madonna Sì siamo aperti Anthony Ci siamo Ci siamo Ci siamo Come ho fatto io Gioinari Bilo il bello Un altro Un altro Un altro like Benvenuto Benvenuto Una famiglia di The Real Le social party Con voi Gran torneo ragazzi In esclusiva Il The Real Trios Terzo torneo Più 220 persone E non è per niente Stessante No 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 Per niente Grande The Wild Siamo aperti Ciao ragazzi Benvenuti a tutti Ciao 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 Buonasera Buonasera Ciao ragazzi Buonasera Buonasera Nel group Quello sul whatsapp Esatto C'è solo il caposquadra Dondo di voi Mi sa che è in ferro Ragazzi Che non c'è Te lo dico subito Allora Forse siamo l'uno Te lo dico subito Amore Buongiorno Ferro Dondo Redi Team numero 4 Però mi sta entrando Mi sta entrando Nella quantia Ah Ripeto Aspetta un secondo ragazzi Aspetta un secondo Ripeto Team numero 4 Ferro Dondo Redi Capito? Ferro Dondo Redi Capito? Numero 7 Bella ragazzi Buonasera a tutti Un bocca al lupo Dai Siete tantissimi Grazie a tutti Forza Andiamo Fantastici Dai Dai Fantastici Dai Ah ve lo dico Lasciate stare Tony Station Perché è mia Lo dico subito Faccio un macello E tutti che non rispondo Giustamente Avanti Oh Sono Ero in lobby Con tutti Privata E' lì aperta Ho detto ragazzi Vi raccomando Lasciate fare Tony Station Perché è mia Faccio un macello Amo 84 Chi mi ha chiamato Ah il Bilo Sì sì Facciamo una chiamata Di gruppo Su Whatsapp Ma almeno Possiamo Parare con il Bilo Allora Fare i soldi Col The Rio Dove Ora Io vi sento Sì 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 Ho acceso Whatsapp Almeno posso Sentire anche il Bilo Oh sta Mi hai invitato Va Va Tranquilo Bilo Ho fatto per questo T'ho chiamato E almeno Io sento I dipo E Non sente te Però No ma adesso È normale che non ti sentiamo Tranquillo 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 Quanti dobbiamo Quanti dobbiamo essere? Mamma mia Quanti cazzo siamo? Sì 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 Sto in metà Sto in metà Sto in metà Sto in metà Aspetta Quanti si stanno riempiendo Eh non ce la fa Allora Fai Unisci Sì Adesso C'è 12 Boso ne manca uno Boso ne manca uno Vediamo un po' Che ti vengono Allora aspetta Provo Allora C'è No Boso è arrivato Boso è arrivato C'è un certo Bacchera A che numero? Non lo invito io E' l'ultimo team E' l'ultimo team Che è 44 Mi sembra E cazzo è Bacchera Gimmi su io Giorgio Ottimo è dentro Io vado in fondo Eh Ok Zeppo team E quello c'è Bacchera Allora Team 42 Team 42 manca Team 41 manca Team 40 Braga C'è solo uno Il 39 Script for breakfast Ok Non si riescono Il 39 I miei amici Dove ci sono messi? Bacchera Ho fatto una sega Di build Perché Squid for breakfast Stenzionisce? Ah Sono alla 9 Ok Perfetto Vabbè E' uguale A che numero Siete arrivati ragazzi? Allora Siamo a 114 Raga comunque Allora 42 team Per 3 4, 8, 12 6 126 Mancano 12 persone No 42 team Dovemmo essere Eh Infatti 42 team Sì 4, 8, 12 E 6 126 Mancano 11 persone Quindi TRMN All'1 Ci sono? Il roscio Sì Noi ci siamo Il 3 C'è Il 4 C'è Il 5 C'è Il 6 Ah Il 6 Perché non Entrano Ah Sono entrati Molto bene Sono entrati Stanno entrando Evamp Al 7 Check 8 Ok 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 Sono in 2 Però Manca Ghele Brazov Qualcuno può scrivere Ghele Brazov per favore Su Whatsapp 9 E io ho scritto Ok 9 purtroppo si è ritirato Però abbiamo messo Squid Ah I Paz Al 10 C'è 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 Il 12 Bozo Ok Ma Manca 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 Il 13 C'è Ma manca un team Manca 14 Manca Croboid No Croboid c'è Ah ok Al 23 Sono solo in 2 Il The Bandits Ma non corrisponde Ah si Re 70 Ok Band Band ok Manca Mario Lino Scrivete Mario Lino Squadra 23 Eccolo E' entrato Mario Lino E' entrato E' entrato E' entrato Manca al 32 C'è un simmico Che cazzo manca ancora? Al 32 simmico c'è Scrivete al team Itomi Team Itomi Manca uno Al team Itomi Oddio Itomi Chi ce l'ha Itomi? Io no Aspetta Itomi Itomi manca uno Non so Nickname L'ho aggiunto a te Itomi Itomi Andinghi E mandinghi Anche Itomi Lo chiedi io Sì Ah Slim Nick Ok so chi è Sì 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 certo Scrivete nel gruppo 3 minuti a partenza Sto cercando i numeri slim 3 minuti scrivo? Sì Ok 2 cazzo è il numero slim 3 Madonna Senti noi siamo un 2 Ah ok siamo un 2 Siamo un 2 Siamo un 2 Perfetto Lui check 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 Possiamo partire penso no? A 32 sono Sì la 40 Manca uno infatti Manca solo una persona Allora Top Qualcuno può scrivere su whatsapp Che manca una persona e si parte? Manca una persona e si parte Oh raga Vi sono se fatto nulla Io parto con far aug Ok Vediamo che vanno La prima La dobbiamo giocare così Per forza Prima a cazzo duro Alla 40 Vabbè La 40 sono Mi raccomando evitiamo Evitiamo Chi ce l'hai Braga? Non io Biro Confermi che Eccolo è entrato È entrato È entrato Non è ancora in lobby È entrato in lobby Ma non è nella squadra Ho sentito un pack Dai Dai Vai in 40 Muto Che boys sono Tesissimo Ma da che sei matto? Ma che sei Matto? Qualcuno può chiamare Team Braga Per favorire un numero? E non so chi sono È tuo Tonno È sempre tuo No Ibraga? No no Scherzo 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 È debile 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 E uno della 40 Quale? Manca uno La 37 Manca Manca Vincent Eccolo Vincent è entrato Manca la 40 Manca Dio maiale Manca sempre la 40 Solo Chi è la 40? Parti Vai cazzi loro Andiamo La 40 sono un 2 C'è Don Matteo E Lio Manca solo la 40 Sono le 27 Non possiamo aspettare Sennò cascio la lobby Parti Cazzi loro Ah che cazzo Si giocano quella di bonus A pelo 37 sono entrati Ah minchia No eh ragazzi Crascio la lobby è un casino Porca puttana Sì 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 La 41 ha lasciato Ah allora sono stronzi Dio Ah Chissà se Bill ha cliccato su partita Caricamento livello Lo fa pepire La nato scivo un po' E lo scivo un po' E via Vediamo se Bill sta Ah ma Bill siamo ancora in chiamata Mi senti? Bill? Bill? Bill è morto? 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 bilo che sta succedendo non lo so il bilo è morto non mi risponde perché non mi risponde dio serpente dio e preso un attacco di pane è preso attacco di panico è preso un attacco di panico locati di partire siamo stati troppo mare ma non parte sta caricando cari ai scrittori a metto livello per me siamo stati troppo perché l'altra volta è molto più veloce ricordi se e che ti dicevilo una foto nel gruppo io scrivo nel gruppo che sta caricando la robbia si senti qualche aspettiamo e sennò usciamo e rientriamo se ci siamo stabiliti riesce a smontarla non sta che ne riesco vai esci vai scrivetelo 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 dico puoi scrivere te si vai bilo stacca ha risposto di si dico scrivi per bene mi raccomando ci sono state troppo quindi portate pazienza e rifacciamo si se niente preoccupare vai si si mi fido delle tue skills di comunicazione aspettiamo cosimo gallo che stopi ma che stopi a che si non 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 io no lobby tappes mums bija daudze laikams un nestrēdata ok ok teiksmi dan teiksmi veni redibro actually see how it takes you troppo presto raga ancora non sono qua dentro io da lì eh sto rimandogli dal bello ciao come amore ciao redi in quale cazzo sera oh tu no ma no a quale siamo te lo dico subito amore ciao tu e un ricordo allora come stai redi? perrodondo redi team numero 4 thank you eri andato dai bilo 44 redi esci a cazzo bravo che cazzo è tonno? ci sono ah scusami non ti fidami non appare nulla qui è incredibile si 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 cazzo eh lo so sto gioco ha un potenziale è come me ho un potenziale fantastico ma non lo so però guarda bravi alcuni alcuni hanno messo nel nome reggimento i loro nomi team bravi alcuni gli stimo lo fanno con cioè con passione non rompono il cazzo bilo? eh quante quante ne manca? aspetta amore aspetta dovremmo essere 100 ah 100 minca 124 quanti ne manca? nessuno fammi controllare veloce allora 1 2 6 5 4 7 8 9 tatà tatà tapadapadapapà piloparti ci dovremmo essere vai parti piloparti vi lo ci siamo ma dovrebbe funzionare teoria ma la strade che me fa mai si becca il video ha cliccato attenzione si 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 mi sta laggando quindi vuol dire che stavo entrando stavola stavola si mi crasha a me madonna quanto dici di cazzo sono 109 aspetta perché devono entrare aspetta che devono entrare no hai chiuso la lobby? ah io sono fuori tranquillo tranquillo giocate 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 però vedo che ah no andiamo a cacciare andiamo a cacciare signori vediamo quanto ne ho crashato allora report crashata ecco il messaggio ah siamo in tanti allora siamo in tanti aver crashato in tanti abbiamo crashato eh siamo in certo siamo in certo l'abbiamo a cacciare signori si la fai dipolo fai dipolo è in tanti aver guardato Grazie a tutti 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 Non ancora Grazie a tutti 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 Vai Bella Bella Grazie a tutti 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 su team Grazie a tutti 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 E tu Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Bella Grazie a tutti No Va bene Grazie a tutti No Grazie a tutti 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 Stiamo Grazie a tutti 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 Come Grazie a tutti 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 Voi Quanti siete in Grazie a tutti 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 Quanti Quanti siamo Quanti siamo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti